Nell'era digitale, si sa, lo sviluppo passa soprattutto attraverso la tecnologia e anche le amministrazioni comunali sono tenute a rimanere al passo coi tempi. La commissione straordinaria del Comune di Quarto sembra aver preso alla lettera questo principio e infatti già dal 1 gennaio ha digitalizzato le determinazioni dirigenziali e gli atti di impegno di spesa del municipio, rendendoli facilmente consultabili online da parte dei cittadini attraverso una vera e propria scrivania elettronica inserita nel portale internet istituzionale. Una bella iniziativa fortemente voluta dalle dottoresse Nicolò, Macchiarella e Vargas che fa di quarto uno tra i primi comuni in tutta la provincia di Napoli ad aver applicato quanto disposto nel nuovo codice dell'amministrazione digitale che sancisce nuovi diritti per i cittadini utenti. Trasparenza, semplificazione, efficienza ed efficacia sono le parole d'ordine del documento. L'eliminazione di tutti gli atti cartacei darà contestualmente all'utente la possibilità di visualizzare da qualsiasi pc, tablet e smartphone l'atto amministrativo che gli interessa in formato digitale, così da condividerne la conoscenza, inoltrarlo ad altri e archiviarlo, secondo le norme richieste dall'autorità nazionale anticorruzione. La commissione quartese si affaccia però anche al mondo dei social, attraverso i quali sarà possibile creare un'interazione con la cittadinanza per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni. Da YouTube a Facebook fino a Twitter il mondo dell'amministrazione non è mai stato così a portata di click.